In Italia c'è un'Italia antica, fatta di scale ripide, anziani soli e giovani sacerdoti. Ciao, sono Don Mario. Oh, ma non eri Don Franco? Lui e tanti come lui aiutano i poveri, i disoccupati. I bab... i bab... i bab... Gli immigrati. I bab... i bab... i bab... i bab... i bab... i bab... I drogati. I bab... i bab... no! I bab... Le prostitute. gli elfi dei boschi basta con l'otto per mille alla chiesa cattolica avete fatto molto per tanti adesso fate tanto per pochi grazie a tutti